Ah! Che cos'è questa luce? Possibile che provenga dal suo cosmo? Pegasus lo sta espandendo fino ai limiti massimi! E la cuore batte non corre in me. Non l'hai spento insieme agli altri cinque sensi, Gemini. È quella la fonte di ogni forza per un cavaliere di Atena. Il cuore che rende nobili perché sa distinguere il bene dal male. Le forze oscure non potranno mai raggiungerlo. Allora è impedito arrivare al cuore. Nascerà un nuovo cosmo per Pegasus. Sbrucia! Cosmo delle tredici stelle! Brucia! Le forze oscure devono cedere il passo! Fulmine di Pegasus! È inutile che sprechi parole ed energie, cavaliere. Sei ancora troppo lento per me. Non sperarci troppo, Gemini! È inutile, è del tutto insensato. Sei ancora troppo lento, troppo lento! Che cosa? Mi ha colpito! Il fulmine di Pegasus è vicino alla velocità della luce! No! Alla città della luce sta accadendo ciò che più ho temuto. Pegasus spari ad un cavaliere d'oro! No! 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 No!